Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi prepariamo una ricetta particolare di spaghetti con pomodori secchi e caciotto di capra. Per gli ingredienti ho scelto i pomodori secchi del Salento, caciotto di capra sarda, pasta di graniano e gicchi, olio italiano extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio. Per la preparazione prendiamo i pomodori secchi e li tagliamo a triccioline. Nel frattempo mettiamo a imbionire l'olio con uno spicchio d'aglio, mettiamo i pomodori secchi a cuocere per un po' e poi mettiamo mezzo bicchiere di vino bianco. La pasta è pronta, buon appetito! Mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta e se l'avete gradita, se l'avete provata e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!